Due giorni dedicati all'accoglienza turistica nel Veneto. Abano Terme ospita la quarta edizione dell'assise dell'ospitalità. Questo è un modo per noi per incontrarci, l'abbiamo organizzata come ognuna delle province del Veneto. È un modo per riscoprire le buone pratiche che ci sono anche dalle altre parti, confrontarci e, perché no, applicarle in tutto il territorio del Veneto. È un incontro importante perché è un incontro fra operatori del settore per quanto riguarda l'accoglienza. Noi come provincia venete lo facciamo ogni anno, quest'anno è toccato alla provincia di Padova e quindi riteniamo fatto in un luogo, tra l'altro ad Abano Terme, che è particolarmente importante per quanto riguarda il turismo, la gentilezza e l'accoglienza che i turisti possono trovare ovviamente nel nostro territorio termale.